Allora li portiamo con me uno e se ne intende, me lo pensi di scatto. Un applauso a Silvio Trotta, un grandissimo musicista. L'ho trovato nel Molise e allora prima di portarlo a Firenze gli ho detto, mi ha fatto decantare, perché se no se lo trovo un calo stupido, e da pochi anni lo tengo ad Arezzo, quindi intanto tu caschi bene perché gli Aretini è una tragedia. Lo sapete anche l'Arno, quando venne giù dai Paterone per cercare il mare, andavo giù per il Sarezzo, appena visto il Sarezzo ha girato, sa, metto Pisa, via! Però, veramente, poi mi fa piacere perché in che c'è lui la gente può pensare quando è in manasco ha anche i capelli e c'è.